Io credo che questa città, come tante altre, è una città bellissima. Oggi sono anche stata in una giornata fortunata, c'è il sole, però le aree di degrado sono delle aree dove ci sono tanti elementi che mettono insieme degrado e illegalità. E si può intervenire, bisogna intervenire tutti insieme, bisogna essere autorità locali, con dietro il governo, che dà la forza lì dove serve. Se serve e se a livello locale viene ritenuto giusto farlo, se il prefetto fa una richiesta, nell'ambito del Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, io sono disponibile, come Ministro della Difesa, a supportare che venga attivata l'operazione Strade Sicure, anche temporaneamente, a Pescara, nelle aree dove c'è più bisogno per i cittadini di sentire la presenza dello Stato. A volte basta poco, basta lavorare tutti insieme per poter creare quel piccolo cambiamento che poi dà vita a tante altre cose.